Con questo tutorial proverò a illustrarvi come installare nuovi scenari in FSx. Supponiamo che vogliate scaricare il scenario di Valbrembo Lima India Lima Victor. Ci troviamo quindi sulla pagina internet da cui è possibile scaricare detto scenario. Cliccate quindi sul link del download e salvate il file in una directory di vostro gradimento, per esempio nel desktop. Ora aprite File Manager e andate nella cartella dove avete salvato il file, trovatelo e effettuate l'unzip. Sempre nel File Manager, ora andate a cercare la cartella estratta dal file zip, tagliatela e andate ad incollarla nella sottocartella add-on scenery di Fly Simulator X. Avviate quindi FSx, impostazioni, quindi libreria degli scenari, aggiungi area. Nella finestra che ora si apre, selezionate la cartella add-on scenery e quindi sotto di questa andate a cercare la sottocartella che avete appena ricopiato qui e cioè Lima India Lima Victor Valbrembo. Cliccate quindi su OK in basso a destra. La finestra ora mostra il contenuto della cartella Lima India Lima Victor Valbrembo con le sue due sottodirectory, scenery e texture. Cliccate sul bottone OK e quindi di nuovo cliccate nella finestra bianca dove c'è la scritta cliccate sul bottone OK e cliccate di nuovo in questa area bianca. Lo scenario è quindi installato e pronto per essere usato. Buon divertimento! Buon divertimento!